Ciao a tutti, io sono Giulia e vi do il benvenuto sul mio canale interamente dedicato al cinema. Le persone che mi seguono su Instagram o che mi conoscono già dal precedente canale sapranno quanto io do molta importanza alla parte emotiva del cinema, anche più personale. E in questo periodo in quarantena mi capita spesso di pensare a tutte le esperienze che ho vissuto in sala. Penso che ora come ora la sala manca tutti i cinefili che erano abituati ad andarci, ma non voglio entristirvi in alcun modo, perciò sono qui per parlarvi di una cosa bella, come avrete capito dal titolo oltretutto. Tra le mie esperienze in sala posso dire che c'è questa in particolare che mi rimarrà molto probabilmente impressa nel cuore per tutta la vita. Non mi ricordo esattamente in che anno è stato, però mi ricordo ovviamente il film e sto parlando di Dragon Trainer 3. Io personalmente amo tantissimo questa trilogia, quindi non potevo non andare a vedere il terzo film, però diciamo che l'orario e il giorno che avevo deciso sono abbastanza discutibili. Ho voluto vedere questo film una domenica alle 3 del pomeriggio. Quindi potete anche solo immaginare quanti bambini, quante famiglie c'erano quel giorno. Sta di fatto che io ero andata lì perché volevo vedere lo spettacolo delle 3 e vi posso assicurare che non è una bella idea andare al cinema di pomeriggio, la domenica e chiedere il biglietto 10 minuti prima che inizi lo spettacolo. Perché ovviamente non c'erano posti e io ero da sola, specifico. Ed erano rimasti liberi solo i posti in prima fila. E io non volevo assolutamente guardarmi il film in prima fila perché l'ho già fatto una volta e mai più. Quindi ho approfittato e ho preso subito i biglietti per lo spettacolo dopo. E anche lo spettacolo dopo era praticamente pieno, però meno male che ero da sola perché sono riusciti ad inserirmi in un bochino che era rimasto a metà sala dove solitamente prendo il mio posto. E una volta arrivato il mio orario, entro in sala, mi guardo attorno e io vi giuro che non ho mai visto una sala così piena. Non c'erano mai state così tante persone al cinema. Infatti non sapevo cosa aspettarmi. Io ho pensato al peggio. Ho pensato, oh mio Dio, quanti bambini adesso parlano, adesso piangono, adesso si lamentano. Però ovviamente se ho dato questo titolo è perché tutto questo non è successo. Non sono mai stata così bene al cinema. E adesso vi spiego come mai. Innanzitutto io avevo paura che i bambini parlassero per tutto il film e invece erano talmente pietrificati davanti allo schermo che sono stati in silenzio. Le uniche paroline che si scambiavano erano dei commenti durante il film ma erano assolutamente contestualizzati. Ad esempio durante le scene di lotta c'erano dei bambini che addirittura facevano il tifo per sdentato e hiccup. Cioè che stavano lì aggrappati alla sedia davanti a fare il tifo per hiccup e sdentato. Cioè una cosa meravigliosa. Manco in uno stadio ho visto così tanto trasporto. Oppure sentivo dei commentini così adorabili da parte di alcune bambine che quando vedevano furia bianca dicevano cose del tipo Quanto è bella ma è tutta bianca. Oppure ancora le scene in cui sdentato e furia chiara si guardavano innamorati, giocherellavano. I bambini impazzivano in quelle scene. Erano lì che dicevano Oh mio Dio ma innamorato! Io mi stavo sciogliendo ve lo giuro. Ed erano totalmente incantati e affascinati dallo schermo. Avevano questi occhioni puntati e non si scollavano da lì. Io molto spesso davo un'occhiata per vedere perché erano troppo belli. Cioè io ho pagato il biglietto praticamente per vedere i bambini alla fine perché erano troppo carini davanti a questo film. E quando è finito tutti hanno applaudito. Ve lo giuro è stato bellissimo. C'erano genitori commossi. Io commossa perché figuratevi. Eppure i bambini erano felicissimi. Commentavano tutti esaltati. E nella mia fila poi c'è stata una bambina che si è girata verso di me. Mi guarda, si gira verso suo papà e dice Ma papà ma quella è una bimba grande. Cioè io ero diventata la bimba grande in quel momento. È un onore. E davvero è stata un'esperienza così bella che credo che me la ricorderò a vita. È stato bello perché è come se avessi visto il film un po' con i loro occhi. Cioè i loro commenti mi facevano notare alcune cose che magari io d'adulta non avrei notato. E posso assicurarvi che anche se spesso succede il contrario Molte volte le esperienze più belle al cinema si hanno proprio grazie ai bambini e al loro trasporto nella storia. Io l'ho sempre detto. I bambini sono il pubblico più sincero. E adesso sembrerà strano da sentir dire Ma io da questa esperienza voglio apposta andare al cinema Quando so che ci sono tanti bambini E questa cosa è risuccessa con Frozen 2 Io amo Frozen, chi mi conosce lo sa E quando è uscito il secondo film mi sono andata a cercare apposta una domenica pomeriggio Ed è successa più o meno la stessa cosa Tutti i bambini che ridevano a crepapelle appena Olaf faceva qualcosa Veramente io vi posso assicurare che quando sono educati bene O comunque sono veramente interessati al film E non sono troppo piccoli più che altro I bambini sono meravigliosi al cinema E adesso voglio sapere qual è stata la vostra esperienza più bella al cinema Mi raccomando messaggi lunghi perché voglio i vostri racconti Io vi ringrazio tantissimo se mi avete ascoltata fino a questo punto Vi abbraccio e ci vediamo ad un prossimo video